ciao a tutti è arrivato il pacco di scrobby da un'oretta l'ordine l'ho fatto venerdì sera al torno alle 8 probabilmente in olanda lavorano anche di notte perché mi è arrivata l'email di conferma dopo dopo un'oretta dopo 30 minuti o un'oretta che avevano già preparato il pacco e si dopo un'oretta all'incirca mi avevano dato mi arrivata anche una seconda email dove davano la conferma che il pacco era stato inviato sono rimasta sorpresa lavorano anche di notte veramente all'interno del pacco ovviamente sono acquistato prodotti per arrivare a 90 euro perché se si arriva ad una spesa minima di 90 euro le spese di spedizione sono azzerate altrimenti ci sono 20 euro di spese di spedizione non ha senso acquistare magari un'agenda o materiale per fare scrap scrap booking o qualsiasi altra cosa che sia inferiore ai 90 euro per spendere poi 20 euro in spese di spedizione preferisco acquistare altri prodotti dunque uno dei prodotti che acquistato e questo foglio di webster pages con tutte queste tag da ritagliare mi piaceva l'avevo ad occhiato da tempo non l'avevo messo nel carrello perché era da tanto che non facevo un ordine l'ultimo ordine l'ho fatto quando acquistato appunto la color crash azzurra appena fatto cadere di tutto e a febbraio se non ricordo male dopo di che non ho più avuto modo di fare ordini adesso con con l'uscita delle nuove agenda di mini by big ideas ne ho approfittato dunque quello uno poi ho acquistato questo sempre di webster pages bellissimo i colori sono stupendi hanno quel quel tocco romantico shabby chic che mi piace tantissimo questo è double fast dunque quando lo taglierò avrò comunque la possibilità di usare le tag in maniera double fast e poi per ultimo sempre no non è più di webster pages ma di craft market questo con tutte le con tutte queste scritte anche loro si possono ritagliare mi piace moltissimo anche questo quando ci sono scritte che si possono ritagliare sono mie e lì dietro è così semplici semplici righe dove uno può annotare cosa semplicemente le lascia poi ho acquistato l'espansione per l'agenda per il planner di mi e my big ideas i sei mesi mi piacciono perché non sono stampati dunque uno può fare può giocarci può aggiungere può aggiungerli quando preferisce non è non è costretto a dover seguire per forza il calendario perché comunque sono sono completamente personalizzabili sono bellissimi colori mi piace la carta perché comunque è pesante ovviamente deve essere più pesante della carta normale perché usando il sistema ad anelli tipo quello di stepos devono essere leggermente più pesanti meglio così perché forse le viro non passano di sotto e i mesi sono sono colorati appunto in maniera diversa uno se li può personalizzare tranquillamente come preferisce diciamo che il tuo rosa non sono proprio i miei preferiti neanche le rega nere però dai e sono carini mi piace mi piace mi piace mi piace questo è molto carino dunque sei mesi aggiuntivi poi aiuto poi ho preso i fogli a riga quadretti perché pensavo di non trovare l'agenda che mi piaceva ne avevo già selezionate due giusto per vedere se erano disponibili perché non erano proprio quelle due che mi piacevano volevo solo vedere se erano disponibili e non erano disponibili ho provato a vedere c'è il 7 anche con con i divisori con le copertine era finito anche quello dunque ho pensato che fosse finita anche l'agenda che mi piaceva allora ho cominciato a mettere nel carrello comunque cose che mi servivano anche se avessi trovato l'agenda che ho preso il set con i 20 fogli a righe 20 fogli a quadretti è bello mi piace anche pur avendo trovato l'agenda me lo son tenuto perché comunque io scrivo tantissimo e quello mi serviva poi poi acquistato questo set di adesivi sono sei fogli e mi piacciono tanto piacciono tanto perché sono carini sono carini veramente si possono usare sulla sul calendario si possono usare sull'agenda sono fatti bene sono quelle cose che in genere magari si cercano non si trovano perlomeno non riuscivo a trovarli a me piacciono mi piacciono mi sono piaciuti veramente non li ho pagati in esagerazione dunque va benissimo poi sempre di mia big ideas ho acquistato questi che sono sempre adesivi però sono più impostati sulle sulle note mi sono piaciuti tantissimo anche questi il suono del telefono poi poi acquistato tre foglietti di adesivi troppo belli questi mi piacciono veramente tanto sono delle delle scritte sono sempre di webster pages che fa delle cose che sono stupende secondo me e li ho pagati intorno alle euro e 20 se non ricordo male non è poco ma neanche tanto alla fin fine per questi adesivi sono troppo carini ho comprato questi 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 mi piacciono troppo le scritte io le adoro e questi poi un set di adesivi che avevo messo nella wish list a febbraio adesso li ho acquistati perché perché mi servivano intanto la cifra per arrivare ai famigerati 90 euro e poi perché mi piacevano mi piacevano a febbraio continuato a piacere sono veramente carini non ho capito se sono si sono ritagliati avevo preso qualcosa di molto simile su etsy con una ragazzina un cagnolino troppo belli mi erano piaciuti quelli e questi qua sono simili dunque gli ho riacquistati l'unica cosa che mi lascia un po' perplessa sono questi qua con le scritte in coreano che a sapere cosa c'è scritto sarebbe bello gli userò probabilmente quando devo esprimere un po di rabbia non so che cavolo c'è scritto in giornate particolarmente nere metterò le scritte in coreano magari sono scritte felici non lo legge in coreano non lo sapremo mai poi acquistato un'altra cosa alla quale facciamo un filo da tempo la foratrice finalmente c'è della levinger che sul sito quanto costa io l'ho pagata non mi ricordo 12 euro non ricordo quanto l'ho pagata comunque la volevo acquistare da tempo non l'ho mai acquistata la foratrice della staples no 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 praticamente impensabile acquistarla perché è una mostruosità e gigantesca mi piaceva questa guida la venger però si trova solamente quando l'ho vista io a farsela arrivare dall'america oppure su amazon bisognava pagare spese di spedizione non c'avevo voglia e ho lasciato perdere adesso l'ho trovata e l'ho presa al volo almeno riesco a bucare fogli che dico io non dovremmo sempre solo comprare i refili poi ho acquistato questo sono bellissimi con l'interno il cuoricino sono grandi sono sempre di mia baby gadia mi sono pentita di non aver preso quelli oro perché non ho guardato che l'agenda aveva gli anelli anelli i dischi che sono più piccoli di questi non c'è proprio fatto caso se me ne fosse accorta avrei comprato anche quelli color oro ho comprato solamente questi qua blu perché l'idea è di metterli questa ed è proprio il suo colore identico preciso sono troppo contenta adesso appena finito il video li sostituisco perché questi sono veramente piccoli dischi della staples non è che sono piccoli sono minuscoli poi 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 ho acquistato non planner perché appunto tornando al discorso di prima se non avessi trovato l'agenda nella sarei creata io dunque foglie a righe foglia quadretti sei mesi e non planner e veniva fuori una bella agenda almeno secondo le mie necessità poi in realtà ho trovato anche l'agenda mi sono tenuto anche l'on planner i fogli in più perché comunque sono tutte cose che che utilizzo c'è la questa è la la copertina che verrà assolutamente plastificata verrà plastificata anche la to do list siamo tutte i divisori il plastificherò assolutamente perché sono rischiano di rovinarsi non è proprio il caso giulia child carino se avete visto il film giulia in giulia è veramente carino è una delle frasi della della cuoca giulia ciai bello 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 mi piace veramente la vita bello budget questi qua sono tutti da plastificare bellissimi poi 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 ho acquistato questi che secondo me sono bellissimi sono sempre di me my big ideas sono adesivi però questi sono spessi e sono quattro fogli di adesivi questi mi piacevano veramente mi piacciono le scritte mi piacciono le scritte family love your family queste mi piacevano proprio poi amo le scritte con quella calligrazione con la calligrafia in corsivo sono troppo belle questi mi piacciono veramente poi queste carte già preparate diciamo così che uno mette nell'agenda per gli stati d'animo per abbellirla mi sono piaciute tantissimo anche queste probabilmente in prossimo ordine le ordine appunto le rimetterò nel carrello di nuovo veramente carine ho trovata una qua in mezzo che vorrei capire se si sono sbagliati ok fogliettino sottilissimo rosa o serve per dividerli o forse perché questa qui non lo so sinceramente vabbè ce lo teniamo via la vita è meglio quando stai sorridendo stai ridendo bellissime 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 queste mi sono piaciuti veramente tanto e andranno dentro l'agenda di sicuro e infine tutto l'ordine è stato fatto per lei allora ho trovato quella che mi piaceva perché quella con la copertina non mi piaceva le altre oddio non mi ricordo neanche che copertina avevano di questa mi piaceva la copertina a parte la colla che non si leva la copertina mi piaceva la frase che c'è sulla copertina ogni giorno è un dono ed è vero e niente mi piacevano mi piaceva proprio tutto comincia da luglio dunque ci metteremo a scrivere e a personalizzarla da luglio 2015 e arriva fino a dicembre fino a dicembre 2016 si fa tutto il giro arriva fino a dicembre 2016 dunque è una bella agenda volendo poi ho i sei mesi aggiuntivi buonanotte buonanotte è fatta presto a poco tutto uguale plastificherò ovviamente i mesi perché sennò rischiano di rovinarsi anche perché alcuni sono già arrivati rovinati ad esempio febbraio se riesco a trovare eccolo qui febbraio è arrivato già rovinato stessa cosa per giugno evidentemente dentro al pacchetto picchiava contro qualcosa ed è spiegazzato adesso ho provato un pochettino diciamo a stirarlo però non è che si riesca più di tanto a sistemarlo e poi un pochettino rovinato anche ottobre sì non è che è una cosa tragica però sul sito vendevano anche queste agende scontate perché appunto veniva dichiarato che avevano dei difetti si erano rovinate praticamente durante il trasporto se qualcuno io sinceramente ci ho fatto una mezza idea a un mezzo pensiero ad acquistare una di quelle rovinate perché alla fin fine non è che possono insomma aver chissà quale tipo di danno magari hanno appunto i mesi piegati il danno più grave potrebbe essere la copertina piegata perché questa è plastica insomma e la piega si nota però se sono cose sulle pagine alla fin fine uno le sostituisce dopo vabbè ho trovato questa che comunque era c'era e l'ho presa e l'ho presa a prezzo pieno però se qualcuno volesse farci una mezza idea avesse l'intenzione volendo c'è anche quella possibilità Scrobby è sempre un bel sito uno si diverte da morire ad andare su quel sito peccato che si debba spendere comunque è uno di quelli che costano di meno perché ad esempio ho visto stesse cose su Amazon che stessi prodotti tra le altre cose che costavano di più e Amazon diciamo che è famoso per avere comunque dei prezzi buoni dunque sinceramente lo consiglio e chi vuole andare a darci un occhio ci dia un occhio alla fin fine non è costretto a comprare uno può anche farsi un giro su un sito tanto per far qualcosa io lo faccio spesso e non è che compro in continuazione compro solamente quando ho bisogno ovviamente ciao a tutti e alla prossima